Qui in percorso, antichi guadi e sorgenti termali, si biforca, a sinistra giunge a salso minore, mentre a destra, da cerignale, arriva ad ottone. Nascosta tra la vegetazione, vi è la torre del lago o castello dei Balbi, dal nome dei feudatari che lo costruirono. Dalle feritoie della possente fortificazione, si domina una vastissima zona. Lo sguardo corre sino al monte Carevole in Val Davito, all'Esima e all'Alfeo lungo il Trebbia. Fu teatro di continue lotte per il suo possesso. Per il controllo della valle, ed in particolare della confluenza, sorsero molte torri e case fortificate. Gran parte sono segni di storie.